Chiusa l'indagine congiunturale di Federlazio Frosinone sui primi sei mesi del 2018 ed i risultati per le imprese ciociare sono incoraggianti ed in controtendenza rispetto al resto della regione. Nel primo semestre dell'anno infatti l'economia laziale ha rallentato, mentre le piccole e medie imprese ciociare hanno tenuto, facendo segnare in qualche caso un lieve aumento in diversi indicatori. Secondo Federlazio, ciò va a confermare che il tessuto delle piccole e medie imprese ciociare sta provando a reagire, una spinta verso l'uscita dalle secche che è costante, seppur non eclatante, negli ultimi tre o quattro semestri. Per l'associazione questa è una reazione naturale, dettata dalla laboriosità degli imprenditori della provincia di Frosinone, ma per affermare che sia un qualcosa di strutturale c'è bisogno di una analisi molto più attente ed approfondita. Questi risultati crescono gli ordinativi dall'Italia, mentre calano quelli dall'estero, aumenta il fatturato realizzato in Italia, stabile quello in Europa, in calo quello fuori dal nostro continente. Cresce la produzione nel settore manifatturiero, mentre gli investimenti sono in leggerissimo calo. Nei primi sei mesi dell'anno poi, le aziende hanno dichiarato di aver assunto più dipendenti, facendo tornare il saldo positivo. Riguardo al futuro, le previsioni sono positive sia sugli ordinativi, sia sulla nuova occupazione, ed anche sugli investimenti. Da questi numeri è evidente un fatto ben preciso, anzi due. Laddove le aziende hanno intrapreso un percorso di internazionalizzazione, ci sono i risultati migliori, così come accade per le imprese con un fatturato più alto rispetto a chi fattura poco. Il che significa, spiegano da Federlazio, che si sta facendo più evidente una differenziazione tra un segmento di imprese più aperto verso l'esterno, più strutturato e sensibile all'innovazione, rispetto a chi opera ancora secondo i modelli tradizionali, perdendo efficienza. E allora c'è bisogno di uno scatto culturale, di una nuova spinta innovativa guidata dalle nuove tecnologie, fatto questo che comincia a far leva anche nel nostro territorio, soprattutto con i giovani, ma che, per Federlazio, non è accompagnato da una analoga crescita della pubblica amministrazione. La burocrazia continua a tenere in ostaggio anche la voia di crescita delle aziende giovani, con tempistiche esponenzialmente più lente rispetto alla velocità dell'economia. Per chiudere, Federlazio fa un appello alla politica. Bisogna modernare le infrastrutture, materiali ed immateriali, soprattutto le strade nelle aree industriali, perché le imprese in questo territorio sono una risorsa da custodire e non un nemico da ostacolare.